Nel 2002 McKay era stato notato nella sua scuola a Londra da un ricercatore di talenti recitativi, che lo ha invitato a fare un provino per un ruolo nell'adattamento cinematografico di P. J. Ogan di Peter Pan, uscito nel 2003 Dopo aver frequentato un laboratorio di recitazione, ha ottenuto facilmente la parte di uno dei bimbi sperduti, Kerley Poco dopo ha avuto ruoli minori in un episodio della serie televisiva Rose and Maloney e nel film per la televisione Footprints in the Snow Nel 2005, all'età di 13 anni, McKay ha ottenuto la parte di Riccio nel film Il re dei ladri, adattamento dell'omonimo romanzo di Cornelia Funk Nello stesso anno ha avuto un ruolo principale nella miniserie televisiva in tre puntate Johnny and the Bond trasmessa da BBC, adattamento dell'omonimo romanzo di Terry Trachett Nel 2008 ha interpretato Aaron, il più giovane dei fratelli Bilsky, nel film Defiance, I giorni del coraggio di Edward Zwick Nel 2009 ha recitato la parte di Harry nel film Ragazzi miei di Scott X Per quest'ultimo ruolo, McKay ha ottenuto una candidatura ai British Independent Film Awards ed una ai London Critics Circle Film Awards come nuova promessa Nelle versioni in italiano dei suoi film, George McKay è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane